buongiorno a tutti e ben ritrovati con fake news nelle ultime settimane i media mainstream si stanno focalizzando su una doppia categoria di novax quelli pentiti e quelli morti per covid il tutto ovviamente all'interno della propaganda bellica per lanciare un monito a coloro che diffidano ancora del sacro siero e quindi tutta una serie di articoli di servizi televisivi dedicati a coloro che erano scettici in merito al siero e che poi si sono convertiti perché si sono infettati sono finiti magari in rianimazione e un monito ancora più forte più tragico per coloro che invece sono deceduti poi proprio in seguito alla malattia ce ne sono stati tanti diversi non li andiamo ad analizzare oggi perché invece ci soffermeremo su un articolo della stampa della sezione di alessandria che va a ricostruire post mortem la storia di anna caruso un'operatrice sociosanitaria di alessandria che sarebbe morta in seguito all'infezione da covid erano note le sue posizioni diciamo scettiche nei confronti del siero e la stampa dedica questo titolo e poi andremo anche ad analizzare l'articolo ad anna gentile e pacata la vita parallela di anna parallela tra virgolette già era questo titolo uno dovrebbe presumere che anna cosa fosse un serial killer che in realtà traficasse in organi in armi fosse chissà quale genio del crimine e invece poi scopriamo semplicemente che non era vaccinate che sarà fatta sospendere dal lavoro però già dal titolo che cosa ci comunica questo tipo di informazione che in realtà è inscindibile dalla propaganda perché utilizza tecniche in ingegneria sociale tipiche della propaganda bellica che in questo caso anna era descritta dai vicini che non avevano idea che fosse una novax come gentile e pacata ma in realtà aveva una vita parallela ossia quella di una novax leggiamo lo snippet l'anticipazione convinta esponente dei novax sui social sui social non parlava mai di covido vaccini con gli amici e conoscenti di alessandria quindi amici e conoscenti non avevano la più pallida idea di che cosa pensasse anna che però esprimeva queste stesse posizioni sui social e già qua entriamo in una forma di dissonanza cognitiva ma non importa iniziamo a leggere l'articolo chi conosceva anna caruso l'operatrice socio sanitario convintano vax morta di covid racconta di una persona rispettosa che amava aiutare il prossimo cavolo c'è una bella persona c'è una bella descrizione per una persona che ovviamente è di partita tra l'altro da poco e però l'articolo continua quasi una vita parallela rispetto a quella sua battaglia contro i vaccini che l'era costata la sospensione dal servizio all'ospedale di alessandria ora è assolutamente chiaro che l'idea che vuol far passare l'articolo ovviamente continua è la seguente non puoi essere una persona che ama aiutare il prossimo quindi in qualche modo gentile pacata e solidale e al contempo essere scettico addirittura dubitare o criticare i vaccini cioè è una è una specie di di sono due rette parallele che non si possono incontrare secondo il giornalista che ha redatto questo articolo e quindi tutto l'articolo si gioca su questo filo molto sottile cioè sul fatto che venisse Anna descritta come gentile pacata come in qualche modo anche desiderosa di aiutare il prossimo non a caso aveva dedicato la sua vita al servizio dell'ospedale di alessandria e però era contraria ai vaccini come se coloro che criticano o che sono scettici di questo tipo di terapia automaticamente fossero dei criminali o fossero dei pazzi e quindi non possono essere persone normali che tra l'altro anche votate alla solidarietà ad aiutare il prossimo cioè automaticamente ormai si è creato questo frame questo frame del novax poi all'interno di questo frame ci rientrano un po un po tutti che automaticamente sono dei criminali non a caso negli ultimi mesi sono stati equiparati ai mafiose criminali ai delinquenti dovevano essere stanati perseguitati sanati tra l'altro e vaccinati casa per casa e via discorrendo gli sono stati augurati le peggio condizioni da diventare una poltiglia verdastro oppure di di finire sotto i cannoni e quindi di bava beccaris e bene e oppure sono stati equiparati ai pazzi perché poi abbiamo parlato spesso c'è tutta la questione legata alla patologizzazione del dissenso e quindi questo frame è diventato ormai un vero e proprio monolite per cui se viene se qualcuno viene etichettato come un novax automaticamente la diciamo la fama sul furia laurea sul furia che lo precede quella di essere un pazzo un delinquente una persona che se ne frega degli altri e del prossimo e quindi addirittura ci troviamo con un articolo di questo tipo dove ci si meraviglia del fatto che questa questa donna questa signora venisse descritta come una brava persona una persona non soltanto disposta ma chiamava aiutare il prossimo che era gentile con tutti che era pacata ma questa è pura propaganda si capisce benissimo come lo ripeto da mesi si utilizzano delle tecniche ingegneria sociale in questo caso la questione del frame si crea una cornice valoriale in cui incasellare una categoria di persone in modo da creare anche uno stigma che possa perseguitare che possa accompagnare questa determinata categoria di persone in questo caso la l'etichetta del novax e diventa una vera e propria macchia diventa un vero e articoli del genere sono semplicemente assurdi tra l'altro chi dubita o chi è scettico nei confronti dei vaccini lo può essere non soltanto perché preoccupato e timoroso per la propria salute perché ci troviamo di fronte a delle terapie sperimentali ma magari lo è anche per la salute della collettività magari è preoccupato per le donne in gravidanza che vengono sottoposte al vaccino per i bambini che si vogliono sottoporre al vaccino e tutto il resto quindi non è che se uno è scettico o critica il questi tipi di sieri automaticamente devono essere delle persone prive di empatia egoisti o dei criminali magari sono l'esatto opposto quindi articoli del genere che tra l'altro si disinnescano in fretta sono non soltanto ridicoli ma sono un vero e proprio esempio sono un modello perfetto di propaganda il novax non è soltanto il capo espiatorio ma è diventato ormai un'etichetta un'etichetta denigratoria per perseguitare il dissenso e tra l'altro lo si perseguita anche quando determinate alcune persone non ci sono più e muoiono in queste settimane come dicevo prima come anticipavo prima tutta una serie di articoli servono anche per diffamare le persone anche dopo che sono morte quindi non c'è neanche più un rispetto una forma di rispetto oltre che di pietà per i defunti questo in qualche modo delinea lo stato attuale dell'informazione informazione che lo ripeterò fino alla fine è ormai inscindibile dalla propaganda una propaganda bellica che per garantire infallibilità del sistema e per poter continuare a legittimare delle misure liberticide deve essere una propaganda bellica e deve continuare a inculcare nell'opinione pubblica l'idea che si sia in guerra e che i novax siano dei disertori e in quanto disertori se ne freghino della collettività non sono persone solidali e addirittura siano dei criminali grazie a tutti grazie a tutti